salve a tutti signori io sono lorenzo e questo mio canale esperton e benvenuti bene oggi cosa voglio farvi vedere voglio farvi vedere che se avete dei pregiudizi per quanto riguarda i signori qui tcl ok che magari non sapete come funziona l'assistenza oddio come funziona e chi sono cosa non fanno benissimo tranquilli abbiamo un'assistenza di livello superiore secondo me superiore a tutti gli altri perché se il telefono non funziona o ci sono dei problemi vari abbiamo due anni di garanzia a meno che non fate fattura avete un anno comunque due anni di garanzia su tutto il telefono quindi logico se rompete il display no non è in garanzia ma se ci sono dei malfunzionamenti abbiamo due anni di garanzia sul prodotto sulla batteria che di solito danno sei mesi e non due anni e anche sugli accessori quindi a tutto quello che c'è dentro la scatola che acquistate a due anni di garanzia bene ho un problema benissimo centro assistenza abbiamo l'applicazione centro assistenza e da qui posso fare la richiesta arriva un corriere a casa mia mi ritira il mio smartphone me lo riparano e me lo riportano a casa tutto gratuitamente quindi è un ritiro direttamente a casa una cosa fantastica per di qua possiamo vedere supporto e feedback posso anche prima chiamare però magari mi fanno fare un test hardware vedete faccio test hardware lui mi dice che è inizia il test logico adesso che non abbiamo né sim né niente dentro ok e lui fa una prova intanto quindi mi fanno fare questa prova qua che è come se dovesse andare in assistenza se rilevano di problemi ok e anche sensore luminosità sensore di prossimità quindi abbiamo un assistenza veramente dedicata solo per chi ha acquistato appunto questi smartphone tcl non è una cosa da poco perché comunque un servizio che vengono a casa nostra ce lo ritirano e ce lo portano riparato ma soprattutto avere anche due anni di garanzia direttamente sul nostra batteria e tutti gli accessori questo nel 2023 siamo novembre poi se le cose cambiano non lo so ma al momento l'assistenza e quanto riguarda la garanzia funziona così bene signori video breve ma era giusto per portarvi conoscenza e per togliervi ogni dubbio sul prodotto va bene i prodotti che sono aggiornati a android 13 verranno aggiornati android 14 e così via garantiscono anche gli aggiornamenti se il video vi è piaciuto mettete un bel like così mi aiutate un po a crescere attivate il tasto notifiche se volete se non volete essere disturbati potete anche fare a meno ma l'importante è che vi iscriviate al mio canale che comunque è gratuito grazie a tutti e arrivederci grazie a tutti